il vivaio ravennate è florido ma i margini di sviluppo sono ancora inesplorati è questo l'appello lanciato dalla ravenna fc in vista di una stagione la prossima che i giallorossi si augurano ricca di soddisfazioni così come lo è stata quella appena conclusa si volevo puntualizzare che in quest'anno la nostra academy ha portato sei giocatori in nazionale tre under 17 e tre under 16 e questo ci riempie di gioia perché avere sei giocatori del nostro settore giovanine in nazionale vuol dire che noi stiamo iniziando a lavorare bene cosa serve per migliorare intanto dobbiamo migliorare le strutture e noi stiamo lavorando molto col comune di ravenna e speriamo che ci venga dietro la struttura della darsena quello che il nostro progetto il sogno di portare tutto anche il contesto prima squadra dipende dalla qualità dei campi che ci saranno i ragazzi sono stati bravissimi il settore giovanile che ripeto è impresa in gestione diretta da appena due anni necessità di impianti strutture adeguate